cari amiche e cari amici benvenuti in questo nuovo video benvenuto anche gli ultimi iscritti al canale e a salvatore buonocore in questo video si riferisce nuovamente ai documenti segreti del sismi di cui tanto si è parlato e dai quali è capibile il perché di quanto è successo riassumendo per gli ultimi iscritti sono quei documenti ora formalmente desecretati ma che da ancora secretati finirono per sbaglio dalla procura di roma al tribunale di brescia dove vennero trovati dal ricercatore dello storico giacomo pacini e pertanto da almeno un paio d'anni hanno perso la loro segretezza anche se la stampa che tanto peso ha avuto nel propagandare la teoria del duello aereo fino a farlo diventare una verità indiscutibile nell'opinione pubblica oserei dire anche patrimonio culturale della popolazione italiana meno di quella di una certa età non se ne è mai occupata la stampa e non li ha mai pubblicati a quei documenti ho già dedicato in precedenza li ho già mostrati in tre video e questo è il quarto nel quale ne parlo e ancora li mostro c'è già stato chi fervido credente delle fantasie del duello aereo della mancata collisione della turbolenza di scia dei 21 aerei attorno al 19 quella sera e della uox che orbitava sulla toscana c'è stato chi ha commentato che quei documenti sono falsi senza naturalmente al pari del missile essere in grado di dimostrarlo con prove concrete del resto era ampiamente prevedibile una stimola e reazione necessaria per poter continuare a mantenere vive le proprie ipotesi fantasiose e i propri convincimenti piaget parlerebbe della fase del concentrismo infantile per fare un esempio è come togliere di mano il giocattolo preferito a un bambino che quello subito si metterà a piangere strillare e far capricci più o meno succede lo stesso quando si fa presente l'assurdità del missile e del duello aereo missile primo è una creatura della stampa e duello aereo è la tesi sulla quale il giudice priore ha indagato sulla base della famosa nota aggiuntiva postuma presentata lì da due i membri della commissione misiti nel casarosa italiano e ingegner ed che era tedesco e priore si dimentica dell'altra pista che pure andava seguita dopo che l'ipotesi del missile era stata definitivamente scartata e cioè quella della bomba a bordo il casarosa e in effetti non esclude la bomba infatti come anche held sottoscrive la relazione finale della commissione misiti che individua nella bomba la causa tecnica della caduta la sua nota aggiuntiva postuma di casarosa è risultata peraltro completamente basata su calcoli errati come è stato ampiamente dimostrato in sede processuale da uno dei consulenti della difesa l'ingegnere aeronautico paolo mezzanotte dei calcoli del casarosa nel perché erano sbagliati ne parleremo ancora prossimamente la parte più interessante di questo video non è quella che vedete sullo schermo ma è il link che lascio in descrizione dove troverete il pdf dei documenti finiti a brescia qualcuno di voi li aveva chiesti adesso andando seguendo questo link che porta un blog troverete il pdf che potete salvare inviare condividere leggere e valutare forse quei documenti questo pdf è già da tempo in possesso del giudice amelio che è titolare del fascicolo di indagini intitolato la strage di ustica presso la procura di roma indagini che sono da parecchio tempo ferme di questo aspetto già parlato nel video intitolato lo strano caso del dottor amelio dottor jekyll e mr hyde nulla vi vieta di stampare i documenti che trovate al link e di inviarli con una raccomandata o una pec c'è sempre la possibilità che non li abbiamo ancora visti quindi se voi li inviate di sicuro siete certi che li deve leggere a quel punto se potrebbe farsi qualche domanda che ancora non si è fatto se invece li aveva già è da chiedersi come mai li ha snobbati e perché visto che c'è in corso un'indagine per strage e lì ci sono le evidenze di come sono andate le cose veramente quindi tutta la balla della battaglia aerea va a farsi benedire come si dice normalmente poi al link troverete non solo quei documenti del sismi da cui è chiaro il perché della strage ma anche altra documentazione proveniente dagli archivi della polizia segreta dell'allora repubblica democratica tedesca che riguarda il gruppo separato carlos thomas cramer più dell'altra documentazione alcuni articoli di giornale che consiglio di leggere specie a quelli che sono ancora convinti sostenitori di missili e di aerei in attesa che gli si appunti sopra la famosa bandierina come sapete c'è sempre chi continua a dire che ci sono gli aerei che senza non hanno la bandierina bisogna mettergliela sopra e tutta questa manfrina il materiale che vi sto mostrando e che troverete comunque in quel pdf è tutto un materiale vero sul quale dovrebbe riflettere lo vediamo anche qui sul quale dovrebbero riflettere tutti quanti per anni hanno seguito stanno ancora seguendo la chimera del duello aereo della mancata collisione della turbolenza di scia dei 21 aereo attorno al 19 quella sera del mig nascosto eccetera 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 nel caso ci sia chi li giudicasse falsi come già del resto è avvenuto lasci il proprio commento solo se in grado di smentirne la veridicità concretamente altrimenti eviti appuntamento al prossimo video